Gli americani hanno un rapporto con la casa molto diverso dal nostro. I dati degli ultimi censimenti mostrano che un quarto di loro ha traslocato negli ultimi cinque anni e che uno statunitense cambia casa in media 12 volte nell'arco della propria vita. Le abitazioni si vendono e si comprano più di quanto accade in Europa e si cambiano in fretta non appena diventa possibile andare alla ricerca di una soluzione migliore o quando diventano troppo piccole, troppo grandi o troppo costose.